come vedete qui deve girare questo rivestimento e questo si fa dentro il tipo di muro quindi se fate edit sulla struttura ah, roping at end, scusate, anche qui exterior, interior exterior, ok, ok allora lui chiede quando finisce quale rivestimento deve coprire la fine del muro l'esterno, il rivestimento esterno o l'interno io ho scelto esterno perché qui comunque è uguale esterno o interno perché vedete come il rivestimento è girato tutto intorno ok quindi alle fine succede questo anche questo qua che sono diventati due muri diversi fado edit type fado su edit e qui alla fine del muro faccio exterior casi quando voglio inserire qualcosa dentro vedete come adesso qui in questo caso invece è diverso il rivestimento esterno dall'interno e qui giro il rivestimento esterno intorno anche l'inizio e la fine di questo muro ok ok